ciao a tutti oggi in questo nuovo video vorrei spiegarvi il motivo per il quale l'olio soprattutto quello novello ha un gusto leggermente amaro è bene non confondere il gusto amaro dell'olio con dei difetti di qualità dell'olio stesso ovvero molto spesso si sente abbinare la nota amara dell'olio extravergine di oliva con l'acidità libra dell'olio questo assolutamente non è vero come non è vero appunto che l'amarezza quindi l'amaro dell'olio è abbinabile a dei problemi della qualità quindi un olio di qualità soprattutto un olio novello deve avere la nota amara che ovviamente varia da qualità da olio a olio e comunque sia sta a significare che è un olio di alta qualità poiché l'amaro è abbinabile alla quantità di polifenoli contenuti nell'olio stesso quindi scegliete quando scegliete un olio fate state attenti che questo olio contenga questa nota amara da Lorenzo è tutto al prossimo video ciao